Eccoci ancora qui, abbiamo il piacere di avere con noi la bellissima, e questo lo vedete con i vostri stessi occhi, e simpaticissima perché, questo ve lo posso dire io, perché ho fatto due parole a microfoni spenti, Natalia Roman, da cui per prima cosa mi sono fatto spiegare l'esatta accentuazione del suo nome, Natalia Roman, quindi così è, così deve essere, ma noi possiamo semplicemente chiamarla Lucia. Certo, assolutamente, buonasera. Soprattutto, buonasera, ciao Natalia, soprattutto in questo 28 febbraio 2015 in cui tu sei Lucia, qui al Carlo Felice. Certo, sono Lucia, un personaggio molto bello, molto complesso da ogni punto di vista, come un soprano, penso che il desiderio di ogni soprano di fare questo ruolo perché ha tutto, cominciando dalle cose liriche e finendo con le cose drammatiche perché alla fine finisce in questa pazzia, anzi si comincia anche un po' con, drammatico perché con proprio con l'area che lei sta raccontando di questa fantasma che ha un po' paura, come se fosse per lei una previsione di quello, una cosa che lo sente. Quindi secondo te Lucia è già un pochino instabile fin dall'inizio come carattere? Diciamo che mi la immagino molto fragile all'inizio, molto fragile, molto emotiva. Sensibile. Sì, sì, ci diamo proprio, si fa vedere in regia che abbiamo accentuato con il regista, con Dario Argento questa cosa che fantasma quando lei la carezza intorno, che lei sente proprio in tutto questa, la presenza come sente del fantasma è questo. Bello, ma vedo anche proprio da come ne parli, da come ti muovi, che sei veramente calata nel personaggio. Perché è molto bello, è molto complessivo, è molto, e puoi trasmettere tutta questa emozione, mi fa emozionare prima per me, devo emozionarmi io per poi trasmettere al pubblico, perché deve arrivare. Ascolta, ma succede a un artista come te di portarsi in un certo senso il lavoro a casa, cioè di rimanere un pochino nell'umore, nell'emozione del personaggio anche quando il maestro manda tutti a casa perché la prova è finita, perché lo spettacolo è finito? Secondo, io sì ci rimango perché, come si dice, c'è quella adrenalina ancora dopo le prove che io ci rimango per un paio d'ore, dopo fino a casa ancora sto che sono nel personaggio e devo uscire, assolutamente, perché è un po' difficile da non portarlo a casa, perché ci dai tutta te stessa, sei là sempre a pensare come fare, come il personaggio, perché bisogna veramente trasmetterlo al pubblico, deve arrivare all'animo del pubblico. Certo, e ascolta, ma immagino che questo sia tanto più vero, in quanto non sei l'unica a provare questo, c'è tutto questo gruppo guidati da un regista che è un mito qui in Italia, ma non solo in Italia, della tensione in persona. Assolutamente, Dario Argento che solo guardandolo lui ti dice delle cose così, così, lo capisce solo da poche parole, da quello che ti vuole dire, è talmente, perché è un grande, è impossibile non capire quello che vuole. E guarda, quindi tu arrivi a Genova e ti piace questa città, come ti trovi? È molto bella come città, mi piace molto, da quel poco che sono riuscita a vedere, sono sempre chiusa nel teatro. Questo vento dà qualche problema a voi cantanti? Sì, ci dà molti problemi, bisogna stare sempre coperti, sciarpe. Sciarpe, e così via. Sì, sì. E senti Colte, proprio fisicamente nel teatro, come risposta acustica, come ambiente? È un bellissimo teatro, una bellissima acustica, mi sono trovata proprio molto bene, in ogni punto del palcoscenico, veramente mi sono trovata molto molto bene. Ascolta, ho visto dalle tue noterelle biografiche, che sono noterelle, per modo di dire, una bella pagina piena, perché sei evidentemente molto giovane, non ti chiedo l'età perché con le signore è assolutamente proibito, ma sei giovane. Hai già fatto tanto e soprattutto hai il tuo repertorio spazia, hai già affrontato, vedi, Gilda. Sì. Accidenti. Perché Gilda, come anche nel caso, anche in tutti i miei personaggi che sono, partiamo un po' come, molto verso lirico leggero, così, poi tutte le opere finiscono in drammatico, che tutti, alla fine moriamo tutti o impazziamo, sono poche opere dove viviamo felici e contenti, senti, sì come a Dina in Lisir d'Amore o Don Pasquale, che è un'altra opera molto molto bella, divertente. Ho visto, tra l'altro, che mi ha molto colpito, perché io sono abbastanza appassionato di storia romana, anche se ne so poco. Hai cantato in un'opera dedicata al re dei Daci, Decebalo. Stavo per dire re di Romania, no, non si chiamava ancora Romania, è la tua terra, ma diciamo che la tua terra è la Dacia, questo grande condottiero che combatte contro Traiano, contro Domiziano e Traiano. Quindi hai fatto anche contemporaneo. Ho fatto contemporaneo nel mio paese, che mi hanno proposto di registrare, perché è stata un'opera nuova, in assoluto, che l'hanno presentato anche a questo festival in Moldavia. Ho fatto questo ruolo, me l'hanno proposto. Certo, ora il regista è sempre più antipatico, quando mi trovo con una persona così piacevole e che ha molto da dire, arriva lui e manda tutti a casa, anche in questo caso è quello che accade. Quindi ti chiedo l'onore di farci un autografo. Qui ricordiamo, mentre tu firmi, io ricordo 22, 24 e in questo 28 di febbraio 2015, ho azzeccato sia il giorno che il mese che l'anno, sono veramente in gamba. Grazie. Allora, mostriamo un attimo, si sta arricchendo sempre di più. Ringraziamo tantissimo Natalia Roman. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti.